ah io ero la prima marco diaz vabbè basta andare sui denti ma lo scudo che cazzo ha fatto? come ha fatto a morire lo scudo? ma che ne so basta che ti beccano alla testa alla testa, a aprire i piedi siamo ritardati quindi ritardati quindi chi aveva lo scudo? a meno che te lo distruggono a parte me adesso si fa subito una rivincita porca troia se perdiamo e se te allora sto in mombo adesso si disattivo, mi ha rotto i coglioni adesso se partiamo in difesa no allora io disattivo se non togli sto rimuomo ci disattivo attacco spegni un attimo le cuffie piuttosto ascolta, spegni quando non parli che fa qualcosa vieni quando non parli qualche di quella puttana quella puttana no di cure mountain q smetto allora metti iq train allora metti iq train oh ale disattiva le cuffie quando non parli perchè mi da fastidio il rimbombo mi faccio concentrarmi ahahah allontano un po' il cazzo non è possibile allontano un po' il microfono 2 eh il mio il microfono è piccolo il mio bene che fare perchè fate recuto no ma ho messo un recuto ma porca di quella troia ma passano ancora il volume fa qualcosa nei giorni coglioni come faccio giocare sento più il rimbombo che gli passi dei nemici madonna ma perchè il mio microfono è piccolo capito mi hanno preso però stando sopra guarda che qua è la modalità dello stagio da qua si dovete saltarlo eh ho capito eh ho capito andai di messo la recluta vabbè pazienza adesso comunque il rimbombo sembra essere sistemato vabbè avete visto dov'è eh iq dai dobbiamo seguire train no è tornato il rimbombo perfetto non si è visto però so dove io vorrei ha vorrei segnalare due infatti è qua è qua? ok allora dobbiamo entrare da qua metto di la bridge cioè entriamo da qua proprio avanti eh dico subito dove cazzo è stato è stato individuato che sta individuato da chi? la telecamera ci sono le telecamere chi cazzo è che è uscito scusa? mh tipo vabbè train a qua c'è un'altra finestra dove cazzo è la telecamera che mi individua? porca troia train ok sono qua dove sono io adesso? sul tetto sono qua eccola eh ma se la prenda dovete andare avanti cazzo ci ha detto ostaggio in vita bridge dov'è? va dove siamo muori merda mori 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 troia no cazzo guardare come è messo dov'è che raffino? la vostra lanciare una flash eh dittro dittro il letto dittro una barricata davanti vai entra morca troia ferito lo stagio per sbaglio e dittro la barricata ah l'ho visto cazzo preso cazzo preso la troia chirurgico questo eh dai entra dare l'entra vai prendete lo stagio dai dai lo prendo io orco diaz un camper porca di quella troia dare dove sei? no ma io non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo oh raga sta camperando eh lo so ma se te eri dietro di me lo ammazzavi in due lo ammazzavamo e lì dietro a sinistra ok 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 ah eccolo l'ho visto però mi ha ammazzato no train non di lì 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 no no mamma mia ne ha fatti 4 camperando lì è a sinistra e ne stavamo facendo 5 anche no non ce le ho le flash scansione occhi aperti sparagli da qua sotto tipo fa qualcosa porca troia che cazzo faccio scusa sparagli da qua dai dai seriamente vai 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 eh no devi andare su e ripulire devi andare su e ripulire l'unica possibilità no no rinforzato non puoi dai veloce ai 15 secondi è ancora lì tanto dai eh ripulisco il cazzo solo ripulisci di cattiveria sparagli cazzo porco di giazzi io non ci credo ma porca troia ne ha uccisi 4 sto mongoloide ma guarda dove ha camperato ma Dara se mi seguiva lo ammazzavamo cioè non è che cazzo io dai tu seguimi non è difficile adesso magari se non mi fa mettere ancora la record Mewtwo o Bandit Bandit qualcuno prende Jager io prendo Rook eh la prendo io eh prendilo ok dove spawniamo raga io vi consiglio in cucina dove essere ammessi loro adesso stanza rifornimenti no stanza rifornimenti no facciamo boh eh no nessuno ha votato perfetto anche tutta a casuare oh però c'è dovete tenere lo stagio sicuro train è andata a piazzare e raga i cami dove li piazzano no non sono io aspetti come Ale jager no 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 non c'è nessuno ok Ale vieni qua seguimi devi mettere i due cose dove io metto le rinforze cioè noi rinforzi sono i miei formatori vieni qua dove sono io qui oh io ai train ci allontaniamo ancora eh eh però c'è draco anche qua devi mettere dove se no qua qua possono entrare dove sono non hanno visto dove siamo eh non hanno visto dove siamo eh non hanno visto dove siamo eh no però sanno dove siamo perché c'ero io che li stavo uccidendo no no ho il tempo di dirlo cristo raga la sta botola eh andrebbe rinforzata eh si ho guardato ok li vedo qua c'è uno scudo eh ma no se vado sotto va bene due scudi tre scudi no mi sembra due scudi non vorrei dire cagate cosa fai il judge non mi ricordo minchia non è difficile saper l'abilità devi metterlo vicino ai miei disturbatori così che non me li possano distruggire quegli esplosivi così che non me li possano distruggire quegli esplosivi eh ah eh 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 ma è giusto capito di te sopra sì sono io sopra nel solaio andrà comunque eh riesci a spottarli magari li ho spottati tutti quanti all'inizio li ho spottati tutti quanti all'inizio eh ho capito ma non li vedo più sai come se ne vedo uno con lo scudo che sta scendendo da dove sei tu a train e se ne ha uno dietro anche se ne ha uno dietro anche se ne ha uno dietro anche ma è dietro cazzo questi cosi stanno in video out dove cazzo cazzo se non moriva questo qua veramente andiamo a prendere a casa andiamo a prendere a casa la madonna ok sono sotto di voia sono sotto di voia il problema che guarda un attimo la telecamera qua c'è qualche telecamera che mi può vedermi però non so dove ma te i treni li hai messi cosi di rook e non l'ho preso però e non l'ho preso però e non l'ho preso però e si sopra eccolo porco di giazza porco porco t'ho ammazzato con miller ha visto l'ombra era quello scudo? dove dove ah ah dietro train eccolo prendi da dietro vai veloce dai preso gli altri non ci sono rimangono cinque secondi dai dai dove è che sono gli altri scusa? dai bezzetti merda erano qua comunque stavano sparando lo stadio dai questo round dobbiamo vincere allora dai dai allora selezioniamo bene calma ma ci sarei più georgia? e io metto glass lo metto io fius metto blitz raga è inutile metto blitz raga no no ale disattivarmi troppo quando non parli perchè basta ho rotto i coglioni strada mettiamo strada disattivalo cristo non andiamo dalla strada un miglioramento sono l'unico scudo? dovete recuperare l'unico scudo ok allora non disattivarlo secondo me li sono messi in cucina poi permesso quel cazzo sono le scale senti interferenza sotto ma no sopra no giù no giù non c'è nessuno di cantina allora sono sopra si 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 interferenza sopra dove erano prima si si interferenza sopra si eserano ok raga da dove si va poi da qua eh lo saliamo dalle scale sotto il cazzo figo oh sono l'unico scudo sono l'unico scudo si si allora allora ci sembrava siete voi che fatevi in bombo eh cioè darrell figa darrell figa darrell figa darrell ehi sei data che vuoi fare in bombo cristo cioè eh fare in bombo cristo cazzo cazzo minchia non ha visto perciò a metterle il confetto normalmente non è difficile basta non me li mettete nel culo dovrebbero funzionare basta non me li mettete nel culo dovrebbero funzionare le telecamere prego porca troia sempre eh ha capito eh allora dove devo andare Distrutta la telecamera Sono qua sopra quindi Ok train ti seguo Cioè mi segui Non c'è qualche foto Telecamera Piano con i passi Due jammer distrutti Ripulisci a destra train C'è nessuno Ok facciamo eruzione da qua Veloci Una brice a destra e io la metto a sinistra Metto io A sinistra l'ho messa Io rompo di qua lateralmente No aspetta Non c'è nessuno che vada nella brice davanti Ci vai te Sì ma figa non posso rompere da solo Volete venire avanti o no non è che vi mangiano Cioè più o meno sì ma vabbè Train ecco stai lì Gli altri dietro di me 3 2 1 via Eh com'è no Cioè l'unico Da solo Gli altri si nascondono qua dietro Vai Ale Di cattiveria Di cattiveria Sì è una cattiveria Qua si stiamo cagando addosso Altro che cattiveria Ce l'ha fatto una doppia Bene che hanno fatto Che ha preso Clash Ma siete seri No non ci credo Guardate qui a sinistra è libero eh Non vorrei dirvi Copri le scale almeno Copri le scale Che non mi arrivano da dietro perlomeno Ma come fai col Kragge a ammazzarli da Arrella Eh si può ma Eh non si vede niente Ma dai un pomogero Dove cazzo sono? Porco di niente Guarda Pini Guarda Pini Non muore Non muore No vabbè Ma vuoi morire? Questi mi arrivano da dietro come minimo Vai di cattiveria Muori cazzo Eh vaffanculo No no raga Non si può giocare così Vi state cagando addosso Cristo Ma che cazzo è? Cazzo Anche loro muoiono eh Non è che Cioè Cosa devo fare? Si carano appostati Ma noi stiamo facendo delle stronzate Perché stiamo andando tutti quanti in sede Siamo 2-1 Dovemmo vincere il ristorante qua Assolutamente Guardate che c'è chi è C'è quello che ha fatto la doppia Che è la prima volta che giocare in boss fix Ah io ve lo dico Dico solo questo Cioè C'è un motivo se è un gioco tattico e di intelligenza C'è un motivo Non è che conta molto Nerdare E noi stiamo facendo stronzate Mettetevi in stanza rifornimenti Va cazzo Porchè Eva Mamma mia oh Sembra che non avete mai tenuto in mano un pad Non abbiamo mai tenuto Avete scelto almeno quelli giusti? No Alessandro che sta ancora con Jager Che non sa che cazzo deve fare Dovete proteggere lo staff Eh ma nessuno c'è C'è Rook Quindi Devo prenderlo io per ora Adesso non mi assento più della zona Perché sono a figa Ci sei dietro di me Jager? No non c'è Sta dormendo Perfetto No no Io veramente non Allora faremo degli allenamenti Questo è chiaro Eschei sono tutta una prova Così non si può Proprio Tu che TJ E' uscito l'altro giorno Dove lo metto? Si ho capito Ma questo qua E' la prima volta che gioca a Rainbow Six E' ho capito E' un doppio headshot Vi ha fatto E ti assicuro che non è un pro gamer C'è perché lo conosco Non è un pro gamer Cazzo Ha un doppio headshot Vi siete fatti fare Vi ho detto di rompere Se siete stati tutti lì A cagarvi addosso Perché trovi Ancora con sta cagata Di barricarsi così Non avete capito Che ci inculano? Minchia l'ho messo lì sopra Cazzo Oh se arrivano da qui Vabbè Mi siete già nascosti Non ho capito un cazzo Bene Eh qua non ci può mettere Dove cazzo vi mettete? Cioè così La prendiamo nel culo Allora train Se mi arrivano da questa Se mi arrivano da lì Dove c'ho il cazzo di drone rotto Me lo devi dire cazzo Ok? Ma qua neanche la barricata Avete messo? Ma siete pazzi? Cioè da qui arrivano Oppure l'avete tolta addirittura Ancora peggio No da qua ci scoprono Allora te mi devi dire Se arrivano da quella parte lì Ok? Sì Bene Io sto guardando di là Non è concesso Sì Non è concesso perdere cazzo Basta Sono rotto i coglioni Dai mi metto qua guarda Così da ampero Non è concesso perdite più che altro Dimmi se arriva da lì Train cazzo Se arriva da lì Sì Ho re tranquillo Inche giochiamo come prima Che stavamo facendo Toglie come risulta Li battevamo tutti e cinque Raga dai Che li ho marcati raga Ah trio Cosa vuol dire Aspetta che Allora Veramente stanno facendo saltare la casa Esatto Verranno distrutte comunque le cariche Comunque da qua dietro non arriva nessuno Train Eh aspetta però Perché là ci sono le scale Se non sbaglio scendono Dov'era Phil dov'era Dov'era Phil dov'era Stanno scendendo le scale Quali? Quali scale? Quelle sopra di voi adesso Grazie al cazzo Figa Qua mi chiudete fuori Ma io Madonna Quali Phil Guarda il mio visuale un attimo Allora aspetta Come sai Cazzo è successo qua Quelle esterne Esterne Vedi ditto Queste? Ok te li trovi davanti Tra poco Non quelle perché Non so dov'eri Eccoli Non possono non morire Non possono non morire Ah l'ha ucciso L'ha ucciso Ma guarda che non muoiono Muori cazzo Porca troia Non sparatemi cazzo che sono qua Queste Posso qua? Vedere Allora Train e Dimis Arrivano da lì Noi non ho visti tre Tipo Non ho ucciso uno Boh Non si capisce E nel dubbio faccio saltare Da dove? Gadget squadra Da sopra Da sopra Fermo Ale Fermo Dai calmo Oh la Dai grande Oh Sì ma non è Guarda comunque in privata lagga un pochino di più eh Ostrò pure io che ho la connessione però lagga un pochino di più Cioè io ne avevo tre davanti e ne ho ucciso uno Cioè Boh Allora attacco Toucher e Teiku Train Gli altri fate quel cazzo che volete Tanto fate così alla fine Quindi non è che Allora mettete Discarica Allora mettete Discarica No a dare Quel cazzo che volete Non è compreso il cecchino però Cioè Un minimo di Cioè Quell'altro fuse Eh allora boh Mettete gli spezznats Che abbiamo Cioè Ed è inizio ai gioco che vi dico che non servono un cazzo Dai prendo Vabbè no Cioè poi prendevo cosa però Vabbè Nessuno ha preso lo scudo 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 No ma è veramente Io veramente Non ho parole Vabbè dai Lascia perdere Dai appena il terzo giorno che uscita Eh ho capito Però non è difficile Saper che In squadra ci deve solo uno Lo scudo non è impossibile da capire Come anche non è impossibile da capire Non è un po' di rendimento Sì sì è chiaro Devo fare caccia al terrorismo Eh sì Lo ris impara meglio Ho trovato anche il tizio Dov'è? Sono sempre qua loro Sempre qua Dov'eran prima? Sempre nello stesso punto Sì Sì Lo abbiamo vinto al round No dove l'abbiamo perso Dov'erano messo nel culo Guarda Mi sto mettendo proprio preciso qua Così rispotto dopo Ok io cerco di Cinque secondi Cinque secondi Per cui Sì Adesso mi stanno Sgamando Vabbè me l'ha sgamata Probabilmente la La videocamera Allora Allora Voglio uno che sale qua sopra Ma due che salga un po' sopra Gli altri Non correte come Gli altri Ma qua ci sono Le tre Vabbè me l'ha sbaglia Vabbè me l'ha sbaglia Vediamo se sono altri ingressi Qua Allora io entro da qua Voglio un altro insieme a me Vengo io Train vieni Ma te sei il cecchino però Te sei il cecchino figa Devi andare con Ash Devi andare con Ash Il cecchino Vai con Ash che è Feel Magic Feel Magic Aprigli le pareti Con Ci sono delle telecamere Hai capito Hai capito Feel Mi hanno visto Ma dove sono le telecamere Ce n'è una fuori train Dov'erate le camera Cazzo Guardatele bene Train perché è fermo train No ok Perché sto guardando Li sto spottando adesso Li sto spottando Allora devi seguire Ash Darle al pro Di metterti nelle posizioni Da cecchino Eh si ok Ma ci stavano sparando Datemi tempo Guarda Ok ve li sto spottando tutti Dove sono Si però train Ok bravo Preso Arrivo Arrivo Io entro Sono entrato da solo Cazzo Sono un pazzo Si esatto Mi individuo Vai Curami Aspetta Dracoon Che arrivo Vai muoviti Vieni train Velocissimo anche Eccomi Eccomi Stagio No porco diaz Ha ucciso lo stagio Ho ucciso lo stagio Mi sta che ha ucciso lo stagio Ho ucciso lo stagio il tizio Perché non ha capito che io ce l'avevo Bravo pirla Dai che cazzo Basta Cazzo eravamo entrati bene Io non volevo usare l'MP Perché sennò Perdevamo la copertura Cazzo io metto castle Basta Mettiamo castle Di cattivera col fucile a pompa Perché tra Vediamo se entrate Figa Andano proprio rotto il cazzo Vai Allora Stanza No Vediamo un po' Dormitorio principale Vediamo il dormitorio principale Vai Vediamo se entrano cazzo Adesso mi pare Come le merde Così vediamo Siamo ancora distanti Lungi Dall'essere Il team organizzato Ovviamente Ma è uscito da due giorni Il gioco Dai E alla madonna Non riesco a leggere il messaggio Porca cazzo Allora Nessuno ha messo mute Perfetto Sanno dove siamo Quindi non possiamo fare un cazzo Barricate 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 Qua metto quella Che non possono entrare Oh Le corazze subito Corazze subito Tutte le corazze F3 F3 Dove lei mi ritirà la finestra Davanti Cazzo Sto spaccando il pavimento Figa però Che m'hanno visto C'è Andrà con barrica qua Vai distrutto l'altro drone Quale? No no Nella stanza dei letti Dei bambini Dovete starci Sì Ma barrica Cazzo E io e train Barrica qua Allora train Vieni subito da me Veloce anche Tieni questa stanza qua Train Questa Devi camperare E non fargli entrare da qua Train dove cazzo sei Dietro di te Ah ok Hai capito train Io sono nella Hai capito no Figa Sì ho capito Che cazzo Dai Qua che cazzo Vi ho detto che sta stanza qua Dobbiamo tenerla Riesce a mettermi Riesce a mettermi una barriera Eh sono io da la cunna Mi campiono Cosa? Eh ma mi serve a me la barricata Aspetta Ah ok Mi spara andrà sotto Mi spara andrà sotto Per il fatto che Ok Ok Stanno arrivando Vediamo C'è Fuse che lancia Complimenti Fuse Grande Fuse Complimenti Non ha capito che lo stagio Devono Non devono ucciderlo Mamma mia come l'hanno ammazzato Vittoria Oh Nato goal Quindi Eh siamo 1-1 Adesso c'è la bella La bella Sì